Dalle navi a vela ai super yacht. È il mondo di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, che sotto la guida di Giovanni Costantino ha una storia di acquisizioni importanti di marchi della nautica italiana, come Tecnomar, Admiral, Perini Navi e molte altre. Giovanni, intervistato per Luxury, ci racconta la storia dell'azienda e di cosa la contraddistingue dalle altre concorrenti sul mercato. Gli armatori che si rivolgono a The Italian Sea Group, infatti, ricercano unicità, perfezione e garanzia, richieste che l'azienda è in grado di soddisfare anche grazie alla loro continua espansione e presenza sul territorio, che li ha portati a inaugurare nel 2021 un'academy con percorsi di eccellenza per formare i propri dipendenti e i laureandi sulle novità del mondo nautico, per creare progetti sempre più unici in nome del Made in Italy.